Sull'arretramento della ferrovia la strada intrapresa dalla Regione e dal Governo è quella giusta e ha l'ambizione e la lungimiranza di realizzare un'opera utile per il futuro di tutta la Regione Marche. È quello che abbiamo sempre detto in questi anni, è necessario un progetto di più ampio respiro nell'interesse dell'intero territorio regionale, una visione complessiva di arretramento a beneficio di tutti i comuni costieri. Ribadiremo con forza come Comune di Mondolfo, in tutte le sedi, la nostra contrarietà a previsioni di rientro a sud di Fano. Ipotesi che dividerebbero a metà la provincia di Pesaro Urbino con un impatto devastante sulle nostre città. In caso di rientro su Fano Sud saremo in tanti a mobilitarci con le comunità danneggiate da questo sceglio. Il primo step dell'arretramento della ferrovia, l'abbiamo sempre detto, deve assolutamente coinvolgere entrambe le province, sia quella di Pesaro Urbino che quella di Ancona. Serve un grande lavoro di squadra tra comuni, regione e parlamentari, sia nazionali che europei, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Dobbiamo lavorare di squadra, portare avanti un progetto che sia condiviso per il bene e il futuro dell'economia marchigiana.